ehi buongiorno ragazzi sono super riposato ho dormito meno di tre ore ok c'ho gli stessi vestiti non mi sono lavato i denti c'ho una testa che pare un petardo esploso e stiamo ripartendo verso l'aeroporto con la speranza che ci fanno volare verso Istanbul con la certezza che ci fanno volare verso Istanbul abbiamo fame e però niente adesso andiamo e vediamo che ci dicono vi tengo aggiornato ciao 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 ragazzi siamo a Istanbul adesso facciamo le corse per prendere la coincidenza tanto per cambiare poi ci riposeremo domani ok l'odissea sembra finita siamo arrivati ad Ankara con una trentina d'ore di ritardo ma ce l'abbiamo fatta ehhh i tassisti dormono cioè nel vero senso della parola che dormono dentro la macchina si allora praticamente e si il taxista c'ha da dormire non ci vuole quindi adesso arriva un altro taxi spero per andare a casa a scuola direttamente ormai a questo punto andiamo direttamente al lavoro mi sa eccolo no sempre lui no neanche adesso ragazzi buongiorno scusate i capelli ma ieri sera mi sono dimenticato di chiudere il vlog perché ero veramente distrutto però siamo arrivati ad Ankara finalmente tutto ok tutto a posto va tutto bene siamo da Giulia e Daniel siamo già stati a scuola ho già girato tre interviste ieri scusate non ho veramente avuto il tempo di fare un secondo di vlog avevo tutte le batterie scariche ehhh molto in rush diciamo ecco scusate anche l'italiano che mi viene da parlare inglese perché ormai è da ieri che parlo solo inglese strano ehhh comunque niente volevo dirvi che oggi piove oggi è mattina e ripartiamo per una nuova avventura nel frattempo ricordatevi di sorridere più che potete perché la vita è un dono ciao ciao